ben ritrovati cari amici ascoltatori ad un altro dei nostri momenti approfondimento nel mondo della medicina oggi vi parleremo di ortopedia ma prima vi voglio ricordare il nostro hashtag storie mi raccomando cercatelo sul web sui social mettete un bel like alle nostre pagine condividete tutte le nostre storie perché sono davvero molto utili ed interessanti come detto andiamo a parlare di ortopedia un settore dell'ortopedia molto particolare molto delicato quello vertebrale ne parliamo con il dottor pino florio benvenuto buonasera grazie di essere con noi dottore allora prima di entrare nello specifico di un tema che riguarda inevitabilmente tutti quanti noi e che bisogna curare con particolare attenzione io vorrei che lei dottore si presentasse un po i nostri ascoltatori raccontando quello che è stata la sua storia professionale sì allora io sono un ortopedico sono innanzitutto un medico chirurgo la mia formazione avviene principalmente a Roma la laurea l'ho ottenuta al campus biomedico di Roma quindi l'università romana e successivamente mi sono specializzato in ortopedia e traumatologia presso l'università la sapienza di Roma poi ho fatto una breve esperienza anche fuori dall'italia oltre anche esperienza all'estero durante il corso di laurea e di specializzazione una breve esperienza a milano nel milanese e poi sono rientrato qua a Roma dove esercito la mia professione presso l'ospedale cristore di Roma e mi occupo appunto di chirurgia vertebrale ecco dottore chirurgia vertebrale ovvero quel tipo di trattamenti di cure che riguardano la colonna vertebrale la colonna vertebrale è una delle parti più delicate possiamo dire così del nostro corpo sì diciamo un po spaventa quando uno parla di chirurgia vertebrale e di patologie legate alla colonna vertebrale perché sono delle è una zona ritenuta sempre da sempre molto delicata e che può le patologie a carico suo possono avere delle conseguenze importanti quindi diciamo un po spaventa i pazienti parlare di chirurgia vertebrale però tutta c'è da considerare che oggi le patologie della colonna vertebrale si possono affrontare nel suo complesso anche con tecniche avanzate e in sicurezza che diciamo limitano le complicanze e le possibili patologie diciamo e le conseguenze della chirurgia ecco dottore quali sono le patologie più comuni che riguardano la colonna vertebrale sicuramente una delle patologie più più diffuse e più frequenti che vedo in ambulatorio è l'ernia del disco è una patologia che interessa varie fasce d'età sicuramente è una patologia che può interessare sia i giovani ma anche i pazienti più avanti con l'età si può verificare o a seguito di traumi di sollevamento di pesi e di movimenti incongrui ma si può anche verificare nei pazienti più anziani per degenerazione dello stesso disco quindi per il consumo del disco che in seguito magari a qualche movimento incongruo fa causare appunto l'ernia del disco l'ernia del disco è appunto parliamone magari così spieghiamo agli spettatori che cos'è è la fuoriuscita di una parte centrale del disco il disco è una sorta di ammortizzatore naturale che abbiamo tra le nostre vertebre è un cuscinetto al cui interno c'è una parte più morbida che prende il nome di nucleo polposo se diciamo a causa di una lesione del disco questa parte centrale fuoriesce dalla sua sede naturale e va a comprimere quello che è un nervo o una radice nervosa causa la classica sintomatologia che è la lombosciatalgia che cos'è la lombosciatalgia? è il classico dolore avvertito da un paziente che ha un'ernia del disco c'è un dolore che parte dalla schiena e si va a irradiare a uno degli arti quindi o alla gamba o alla coscia poi in base alla sede in cui si verifica l'ernia del disco il paziente potrà avere vari tipi di sintomatologie sostanzialmente ecco, altre patologie che chiaramente si trova molto spesso a trattare? diciamo, nei pazienti più anziani un'altra patologia abbastanza frequente è la stenosi del canale vertebrale cioè il ristringimento del canale dove passano appunto i nervi e le radici nervose dovute per cause di artrosi molto spesso o per degenerazione dei legamenti e dei dischi che sono posti tra le vertebre quindi si crea proprio un ristringimento all'interno del canale che non fa condurre bene all'interno del canale l'impulso nervoso quindi si verificherà ad esempio una progressiva perdita di forza e anche di sensibilità alle gambe quindi nei pazienti più anziani che diciamo iniziano ad avvertire perdita di forza alle gambe e anche di sensibilità c'è da sospettare questa patologia che oggi si può curare abbastanza facilmente Dottore, chiaramente lei ha fatto riferimento al fatto che molto spesso sono proprio le persone più avanti negli anni a soffrire di problemi vertebrali ma molto spesso la medicina lancia il solito slogan ovvero prevenire è meglio che curare allora le chiedo quali sono i consigli che si sente di dare ai nostri ascoltatori che magari vogliono prestare particolare attenzione al benessere della propria colonna vertebrale che cos'è che è bene non fare quali sono i movimenti o delle abitudini che possono ledere poi al benessere della colonna stessa Sì, sicuramente ci sono dei movimenti che non sono consigliati fare soprattutto nei pazienti più anziani ma anche in quelli più giovani il classico movimento di andare a sollevare dei pesi andando a fletterci con la colonna in avanti magari dei pesi eccessivi senza avere magari anche una buona preparazione o una buona muscolatura con un'atrofia quindi con una forza che la sostiene può causare appunto la formazione della cosiddetta ernia del disco quindi la cosa importante è uno stare attenti ai movimenti che si possono fare anche ad esempio in palestra ad esempio ci sono molte persone che in palestra fanno dei movimenti incongrui nel sollevare dei pesi e questo può scatenare appunto delle ernie o delle altre patologie a carico della colonna quindi bisogna stare attenti e l'altra cosa è fare una prevenzione primaria quindi andare a fare della ginnastica ad esempio posturale oppure ci sono delle pratiche come ad esempio il pilates o ad esempio anche lo yoga che aiutano appunto a rafforzare la muscolatura della colonna vertebrale e a prevenire quindi le possibili ernie e anche possibili traumi a carico di questa Dottore, molto spesso quando c'è un problema di ernia o problemi di altro tipo dal punto di vista della colonna vertebrale chiaramente c'è un grande timore nell'andare a toccare chirurgicamente quelle parti ecco oggi il vostro settore quello dell'ortopeadia vertebrale ha fatto come dicevo a poc'anzi grandi passi in avanti ma la tendenza è quella di trattare il problema o di andare poi a intervenire sul problema? Allora diciamo che bisogna fare una valutazione complessiva del paziente andare a valutare le sue condizioni generali la sua aspettativa dal punto di vista funzionale che cosa si aspetta il paziente di ottenere e anche dalla sintomatologia diciamo che in prima battuta comunque il chirurgo vertebrale opta di solito sempre per un trattamento di tipo conservativo o mini-invasivo che è lo step iniziale se poi questo quindi della fisioterapia appunto con varie tecniche di rieducazione posturale o anche dei macchinari che servono comunque a migliorare la situazione a livello vertebrale se non dovesse rispondere a questo tipo di trattamenti ovviamente poi in quel caso sarà necessario il trattamento chirurgico che può essere da tecniche poco invasive quindi diciamo con piccole incisioni cutanee o nemmeno questa ad esempio anche con tecniche per cutanee alle classiche operazioni a cielo aperto quindi open che nei casi più gravi dove non si può fare altro che intervenire chirurgicamente a cielo aperto allora dottore prima di ringraziarla io vorrei dare qualche riferimento ai nostri ascoltatori pinoflorio.it è il suo sito il 3338124382 il numero di telefono su instagram dr.floriopino su facebook dr.floriopino la mail pino.florio.it grazie al dottor Pino Florio per essere stato nostro ospite grazie ancora grazie, grazie mille